Benvenuti a questo nuovo incontro con l'autore. Oggi ho qui con me Elisa Monteverde che ringrazio perché appunto ha accettato il mio invito. Prima di parlare del suo nuovo romanzo devo raccontarvi come è nata questa conoscenza perché la cosa è veramente singolare. Come alcuni di voi sanno io trascorro un po' del mio tempo nelle librerie del territorio alla ricerca di quello che è Novarese e mi sono imbattuta qualche tempo fa in questo volume di Elisa Monteverde che avevo sentito citare perché lei fa parte di un gruppo di lettura di cui fa parte anche una mia alunna quindi già questo era il primo aggancio inconsapevole. Io l'ho presentato poi in trasmissione Un libro Un'emozione e lei dopo qualche tempo mi ha contattata via mail per dirmi che le avevano detto appunto di questa presentazione. Sorpresa delle sorprese ho anche scoperto che è la mamma di una mia collega per cui insomma il cerchio si è un po' chiuso perciò per me oggi è come avere qui accanto un'amica di lunga data con la quale peraltro e questo è vero nel periodo estivo ho condiviso tutta una serie di mail per seguire i suoi spostamenti perché è una donna girovaga e questo probabilmente le permette anche di affinare la sua scrittura. Parole di sete e sete di parole è la sua ultima fatica letteraria anche se tanto fatica forse non è perché la scrittura qui è passione si vede. Ci vuoi dire qualche cosa di questo nuovo libro? È un libro che ha un'origine appunto legata a quelli che sono i miei viaggi, i miei spostamenti come tu dicevi soprattutto in Francia dove nel paese in cui passo le vacanze ho sentito anni fa una conferenza in cui si parlava dell'emigrazione locale negli anni dopo la prima guerra mondiale, dopo la fine della prima guerra mondiale quindi intorno al 1920 e si parlava delle condizioni in cui gli emigranti dalla Toscana alla Francia del Sud si trovavano a vivere in questa regione, delle difficoltà di inserimento, tutti i problemi che da sempre mi hanno coinvolta e in particolare la voce del conferenziere che basandosi su documentazioni di riviste, di giornali dell'epoca ci diceva come si fossero definiti la lepre du pays, cioè la lebra del paese. Da lì sono nate le mie curiosità, ho contattato delle persone così per caso nel corso degli anni che avevano origini italiane e da loro ho avuto molte testimonianze. A volte l'assenza stessa delle testimonianze è stata particolarmente rivelatrice perché voleva dire che i loro nonni e i loro bisnonni avevano voluto cancellare i ricordi legati all'Italia. Poi mi sono documentata perché l'argomento mi ha attirato sempre di più, ho letto dei libri, alcuni li avevo già in casa, li ho riletti e alla fine ho raccolto una documentazione storica che ho deciso di trasformare in un libro, in un romanzo. Ho mescolato il tutto nel pentolone dell'immaginazione ed ecco che è uscito Parole di sete a sete di parole dove ho creato logicamente dei personaggi immaginari, ho costruito un intrigo e al tema dell'emigrazione che è in fondo centrale, tengo a dire che ci sono arrivata piano piano, non ci si scontra subito con questa tematica ma ci si arriva attraverso la figura di un bambino che è uno dei protagonisti, Antonio, e stranamente è un protagonista che non compare in fondo nel libro ma intorno al quale ruota tutta la vicenda. Questo bambino, per questo bambino che era nato nel 1900 e su di lui indaga Laura che è la voce narrante e anche scrivente ad un certo punto perché sarà attirata questa insegnante, guarda caso, di lettere dalla storia di questo Antonio e desidererà approfondire il suo destino e scrivere poi. Questo bambino era la maestra di Antonio, delle scuole elementari, che aveva inculcato in lui, quindi parliamo del 1908, intorno a questi anni, il sogno dell'immigrazione verso l'America e quindi per lui questa immigrazione è come un respiro, un sospiro, un soffio di vita, la speranza. La speranza di uscire dalla condizione di contadino misero, pensiamo alle condizioni dell'Italia in questi anni quando appunto le promesse dei governi lanciate in aria prima della guerra non erano state mantenute e quindi ecco che il libro si costruisce intorno a questi due personaggi, Laura da un lato e Antonio dall'altro. Hanno in comune una casa che è appunto la casa della copertina, la casa sul poggio dove Laura va ad abitare dopo averla restaurata e scopre attraverso dei racconti di una vicina contadina che era stata compagna di scuole di Antonio che in questa casa per l'appunto abitava Antonio con la sua famiglia e in questa casa nella soffitta durante il restauro verranno trovati dei documenti che parleranno dei quaderni, semplici quaderni di scuola che riveleranno a lei cose segrete sulla personalità del personaggio. Sono due personaggi veramente molto riusciti e intriganti se posso usare questo termine perché la presenza di Antonio rimane sottesa ma riempie di sé tutta la narrazione. Laura è questa donna che si fa carico quasi di una ricerca come te ne sei fatto carica tu insomma in un certo senso e alla fine tutte le tessere vanno abbastanza a posto però noi siamo pieni di loro, non si possono non amare questi due personaggi. Tra l'altro io credo di non sbagliarmi dicendo che la tua esperienza da insegnante ha giocato un po' in questo senso. Stai trattando un tema importantissimo, quella delle migrazioni che oggi sono appunto così di moda tra virgolette e che occupano molto del nostro quotidiano. potevi decidere di dare molti tagli a questa tua voglia di ricercare, volontà di scoprire. Hai scelto di dare un taglio lieve ma volutamente nel senso che comunque questa storia ti fa entrare, ti fa partecipe, ti fa provare un sacco di sensazioni ma alla fine si esce sempre con un senso nuovo di scoperta. E quindi secondo me la tua esperienza appunto pregressa ha fatto sì che questa tematica così difficile sia stata declinata in una maniera meravigliosa. Quindi il libro si legge veramente semplicemente ma non perché sia un libro semplice perché tu hai deciso di dare un taglio che in qualche modo fosse appassionante ad un argomento che probabilmente poteva anche essere trattato diversamente. Quindi grazie perché non è così semplice. Diciamo che il tema dell'immigrazione mi aveva sempre coinvolta perché nella mia famiglia c'era uno zio, un fratello di mio padre che era partito per l'America nel 1902 e di lui dal 1906 non si emberò più notizia. Quindi c'era questo mito fin da quando ero bambina dello zio d'America e poi altre vicende che proprio fanno parte anche della mia nuova famiglia. Dunque in particolare sono rimasta colpita dal tema dei lavori nelle saline perché lì dove vado in vacanza è una zona di antiche saline e dunque ho trovato, ho scoperto dei libri storici che approfondivano la tematica e quindi ho potuto costruire un po' la cornice di questo. Le saline mi hanno attirata forse perché c'è anche un legame in queste terre d'acqua con la nostra terra e quindi acqua dolce la nostra dove si coltiva il riso, acqua salata quella della Francia del Sud ma sempre acqua molto amara. Sì tu dici un tema dolce, lieve ma in realtà piano piano si va a urtare veramente con la realtà che hanno vissuto questi nostri migranti. Lo studio finisce per essere anche una ricerca dei vari lavori che svolgevano, delle condizioni di vita in cui si trovavano. Poi è chiaro che l'impronta della scuola, la mia esperienza, ritorna evidente sia nel mestiere che fa Laura quindi la sua passione per l'insegnamento, le sue tecniche per attirare l'attenzione dei ragazzi sia per quanto riguarda la scrittura perché Laura scrive e così come io ho scritto in un momento un po' tardivo della mia vita ma comunque ci sono arrivate. Le strade sono lunghe e tortuose ma portano sempre dove si deve arrivare quindi la scrittura ormai è la tua quotidianità, la passione si vede davvero non solo nella lettura ma anche adesso per come stai in qualche modo condividendo con noi questa cosa che ti riempie davvero e quindi per noi, per me in primis ma anche per chi ci sta guardando è una bellissima esperienza di condivisione, grazie davvero. Grazie a te. Ma stiamo lavorando a qualcosa di nuovo? Si può dire. Si può dire. Ho voltato un pochino la pagina e sono ritornata indietro per quanto riguarda l'età dei miei spero futuri lettori perché ho scritto delle favole per bambini, sette favole che usciranno spero prima di Natale ora se ne occupa un illustratore sempre per la casa editrice FD di Parole di Seta ecco quindi io sono nonna dei quattro nepotini per cui non mi manca l'ispirazione e poi ho sempre amato il racconto, la trasmissione orale e in fondo questo libro è un po' un omaggio alla comunicazione orale, una cosa che andiamo un po' perdendo. Davvero, tante letture, tanti tagli possibili per quella che è una lettura irrinunciabile per cui parole di seta, sette di parole con Elisa Monteverde io se posso permettermi ti do già un appuntamento futuro per le favole che sia dopo Natale o poco più avanti. Ti auguro innanzitutto buon lavoro perché davvero questa passione che è vicina al lavoro non venga mai meno e ti aspetto qui in un'altra occasione ringraziandoti per la partecipazione per la disponibilità e per tutto quello che ci dai con le tue parole. Sono io che ringrazio te veramente per la tua sensibilità e attenzione. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.